Lo sai cos'è la tratta di esseri umani? La tratta non è la prostituzione. La tratta è lo spostamento di persone contro la loro volontà, soprattutto donne e minori, dal luogo di origine ad un altro, per sfruttarne il lavoro e il corpo. La tratta si nasconde ovunque, in fabbrica e nei campi, come lavoro forzoso e senza diritti. Nelle case, dove donne addette al lavoro domestico, subiscono vessazioni, ricatti, unioni forzate. La tratta si nasconde nelle strade, dove si è costretti a vendere il proprio corpo. Un essere umano non è merce. La tratta di persone è una profonda violazione dei diritti umani. Ora lo sai. La tratta di persone è una profonda violazione dei diritti umani. Grazie a tutti